Benvenuto Eminenza a San Giovanni Rotondo e su Padre Pio TV. Grazie, grazie. Terzo giorno di Novena, la sua presenza è qui significativa. Il Vangelo di oggi ci parla di un Dio che invita a guardarsi dentro, a leggersi dentro, come una radiografia, l'unica cosa che non vede è il cuore. Cosa c'è nel cuore lo sa solo Dio. Così è successo anche per Padre Pio. Sì, e lui si è lasciato leggere bene dallo sguardo del Signore e la risposta che ha offerto è stata la donazione di tutta la sua vita e la configurazione totale al suo Maestro, a Cristo Crucifisso. Il suo legame con il Santo di Pietrelcina ha un ricordo particolare. Come l'ha conosciuto? Da piccolo. Io ricordo che questa figura mi ha affascinato fin da quando ero piccolo e poi tutte le volte che sono passato qui dal convento per me è stata una grazia particolare. Ho sentito sempre la presenza viva di questo Santo nella mia vita e la sua dimensione soprattutto di confessore mi ha colpito tanto. Quale potrebbe essere un suggerimento per tutti i sacerdoti che hanno appunto come esempio, come punto di riferimento, un Santo come lui che ha passato gran parte del suo tempo nel confessionale? Sì, proprio questo. Io direi che i due punti forza di questa figura così straordinaria sono stati la celebrazione della Messa e il confessionale. Sono le due cose che non possono mancare a un prete. La forza dove la si trova? La forza la si trova nel Cristo Crucifisso e Risorto. Credo che sia questo il messaggio forte che lui ci consegna anche a cento anni di distanza dall'aver ricevuto le stimmate. Siamo per celebrare la festa di San Pio il 23 settembre. Un augurio per tutti i fedeli e i devoti di Padre Pio. Sì, innamorarsi della santità. Grazie. Grazie.